Sicuramente verrò a portare la mia testimonianza ai ragazzi e avremo anche modo di coinvolgere alcuni dei nostri manager per gli aspetti più tecnici. Non vedo poi l'ora di poter portare i ragazzi anche a visitare la fabbrica. Penso che è un altro aspetto molto importante per loro frequentarci, venire a fare il periodo di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo anche all'interno della nostra azienda ex studenti pesenti che sono sicuro saranno molto contenti di occuparsi dei giovani ragazzi che stanno affrontando il percorso scolastico. Un imprenditore che torna a scuola ma non si mette in cattedra, ma si mette a pianto dei ragazzi. Con che spirito? Quello di trasferire a questi ragazzi conoscenze, spunti di riflessione, la possibilità di riportare quello che è stato il nostro percorso scolastico, visto che siamo stati studenti anche noi, cercando chiaramente di stimolarli. Per i giovani a frequentare la scuola a volte può essere non facile, non tutti hanno la voglia, però penso che sentendo noi qualcuno magari possa trovare quegli stimoli che mancano per affrontare un percorso che non è facile.